È evidente che è motivo di orgoglio per la cittadinanza di Sant'Arsegno e per l'amministrazione comunale tutta, perché è un momento particolare dove noi possiamo promuovere il nostro territorio. Il regista poi magari lo spiegherà, si è effezionato a Sant'Arsegno. Il tutto parte dal 2011, quanto a seguito del progetto di Artist House, seguito dal consigliere Francesco Spinillo qui a fianco a me. Questi ragazzi hanno valutato, hanno potuto capire effettivamente le potenzialità del nostro territorio, ma non solo del territorio, ma soprattutto della gente, gente che li ha accolti in maniera positiva. Il regista ricorda questa accoglienza qui a Sant'Arsegno e ha scelto proprio il nostro territorio per la conclusione del film rispetto al quale poi dire a lui qualcosa di più specifico. È evidente che è una possibilità che noi abbiamo per promuovere il nostro territorio. Ripeto, siamo orgogliosi tutti e siamo in attesa. C'è già la ressa per le comparse, la gente chiama perché chiede come fare per proporsi in questa attività. Ne ho parlato proprio questa sera con il regista, vediamo come lui pensa di andare avanti. Rapidamente con il consigliere Spinillo. Ha l'opportunità di pubblicizzare il territorio, ma anche l'opportunità di conoscere da vicino un mondo affascinante come quello del cinema. Sarà anche a Sant'Arsenio una grande bellezza allora? Beh, speriamo. Sant'Arsenio è già una grande bellezza. Siamo santarsenesi, quindi un po' di orgoglio delle nostre radici lo abbiamo sicuramente. Ebbè, quello come diceva il sindaco, rientra proprio nell'ambito della promozione del territorio. Ovvero, noi sappiamo che siamo circondati da una grande bellezza. E grazie a chi ci dà l'opportunità, a chi è stato poi accolto e chi ha avuto la possibilità di socializzare con i santarsenesi e ci dà una mano a far scoprire Sant'Arsenio, a far scoprire i suoi scorci e soprattutto a far scoprire quando un po' noi santarsenesi siamo così un popolo simpatico, goliardico e che accogliamo tutti, insomma. Ecco, lo chiediamo anche al regista. Perché scegliere Sant'Arsenio e di cosa parlerà il film? Beh, quando sono venuto tre anni fa, gira un cortometraggio di 15 minuti e c'era tantissimo materiale, c'erano tantissime cose da volerci mettere, tanti personaggi e non era possibile. Quindi già allora pensammo che dobbiamo tornare e fare una cosa più ampia. Adesso abbiamo trovato la storia giusta perché parla di questi amici che cercano un loro quarto amico scomparso e lo ritroveranno qui e quindi passeranno del tempo qui e quindi ci sarà la possibilità di conoscere più personaggi, più riti folcloristici, tradizioni, quindi ampliare quello che è già stato fatto in parte tre anni fa.